buongiorno cercatori d'oro io sono matteo verto e oggi andiamo a parlare il ciclo biogenico dell'oro in sostanza andiamo a parlare di tutto quel discorso inerente ai batteri che possono con il tempo formare pepite d'oro andrebbe a spiegare soprattutto alcune morfologie molto particolari piuttosto che ritrovamento di granuli piuttosto che pepite di una certa dimensione in località inedite finora abbiamo sempre parlato dell'oro quale prodotto della disegregazione di mineralizzazioni primarie alpine cioè quell'oro che si trova o libero nel quarzo forma di oro nativo nelle vene in montagna affioranti piuttosto che presente come incluso nei solfuri quale esempio la pirita seno pirita e calcopirite e questo quindi man mano che le vene vengono frammentate anche grazie l'attività dei ghiacciati piuttosto che l'acqua piuttosto che alterazione chimica l'oro si disperde nell'ambiente l'oro tendenzialmente è pensato e come un metallo prezioso inalterabile cioè si conserva nell'ambiente naturale andremo a vedere che forse non è proprio vero e con tutto questo discorso che anche video scorsi io vi ho comunque sempre privilegiato sempre evidenziato questo discorso di distribuzione di diffusione loro all'interno dei sedimenti a partire da bene primarie il trasporto dalle vene rispetto alla pianura grazie ghiacciai piuttosto che i fiumi la riconcentrazione lungo i fiumi stessi grazie ad opera delle piene ecco è vero seppur comunque tiene conto solo della sfera litologica non tiene conto della biosfera c'è tutta quella sera invece che raccoglie la vita e la vita non siamo solo noi o gli animali o le piante bensì ci sono anche dei microrganismi che non le vediamo occhio nudo ma bensì sono ovunque alcuni questi sono stati scoperti essere importanti per il ciclo dell'oro ora quando parliamo ciclo regioni con loro e cosa parliamo parliamo principalmente di batteri i quali sono semplicemente dei microrganismi unicellulari prokaryoti e hanno alcune caratteristiche morfologiche importanti i batteri hanno diverse morfologie fondamentali possono essere ferici come esempio di cocchi piuttosto che bastoncellari oppure possono essere tante altre morfologie principalmente quello che mi interessa nel canto morfologia quanto l'attività metabolica c'è alcuni batteri sono importanti nel ciclo di carbonio e ossigeno dell'idrogeno e ozolfo è molto importante per quanto riguarda la pirite sedimentare perché aprite ricordatevi ferrozolfo ma quello che noi soprattutto importa è la riproduzione e la crescita ecco dovete sapere che principalmente i batteri si riproducono per divisione di una cellula madre in due cellule figlie questo nel tempo ovviamente è esponenziale e questo ovviamente nel tempo crea dei raggruppamenti molto caratteristici come potete vedere nell'immagine e quali possono essere delle catene dei filamenti di grappoli ecco quello che voglio mettere l'accento questo processo di riproduzione hanno trovata media che varia da 20 30 minuti però ecco immaginate questo processo nell'arco di mesi anni piuttosto che decenni capite quanto la questa come batterica potrebbe ingrandirsi logicamente ci sono momenti di riproduzione anche molto rapida e momenti in cui semplicemente c'è una specie di stasi piuttosto che un decremento numerico grazie delle condizioni esterne sfavorevoli quindi comunque un saliscendi parliamo delle comunità batteriche gli organismi dentro delle vere e proprie comunità che gli uni gli altri tendono ad aiutarsi a vicenda per ottenere una migliore potenzialità di riproduzione potete vedere che semplicemente si passa da una fase iniziale in cui singole cellule batteriche aderiscono superficie questi si riproducono e si aggregano tra di loro iniziano a scendere queste sostanze esopoli saccaridiche che semplicemente ne permettono l'accrescimento e aiutano l'adesione alla superficie a un certo punto i biofilme mature di conseguenza alcune cellule iniziano ad essere sparse in ambiente circostante queste andranno di nuovo ad avere altre superfici più o meno lontane sua base anche di fluidi decenti e di conseguenza avremo un'espansione nello spazio di queste comunità batteriche molto specializzate questo può avvenire anche al di sopra dei granuli d'oro in questi casi sicamente in questi granuli campionati e ricchissimo di flora batterica tutti questi filamenti tutti questi microrganismi che vedete sono proprio parte dei biofilmi che abbiamo appena parlato i batteri potrebbero far precipitare altro oro quindi ingrandendo da un granulo formando fino una pepita ma potrebbero anche semplicemente di scioglierlo nell'ambiente di conseguenza la vostra poi sparirebbe nel tempo è un ciclo questo qua invece un focus sui confini al granulo il granulo è stato sezionato vedete che c'è una sorta di accrescimento con una morfologia algare fatta a livelli che si spande verso l'esterno via via queste depressioni saranno poi gli ambienti più favorevoli per accoglierlo i biofilmi e di conseguenza andranno a sparire fino a che si produrranno altre protuberanze la protuberanza quella attuale tenderà a essere la futura depressione e con il tempo questo procedimento avrà questo risultato e di conseguenza capite che il granulo tende a aumentare dimensione questo che si è depositato grazie intendo batterico e molto più puro perché tendenzialmente solo ricapitolando quello che finora ho detto quindi in ordine temporale abbiamo una superficie che può essere il nostro granulo d'oro che viene semplicemente diventa sede dell'attività di batteri i quali sono sessili cioè aderiscono a superficie ovviamente questi si spandola anche in specie perché questi collaborano gli uni rispetto agli altri formando una sorta di comunità poi si aderiscono crema le sostanze che vi acquisiscono i nutrienti dell'ambiente ingrandiscono le dimensioni fino a quando a questo punto biofini intramaturo e quindi conseguenza rilascia nell'ambiente una parte di se stesso in maniera tale che il processo continui altrove magari il suo stesso granulo fino a recoprirlo tutto può essere trasportato anche altrove la semplicemente i fluidi ambientali tutti questi nomi che vedete rotobacter achinobacter dianophobacter semplicemente questi batteri sono specializzati nelle condizioni superficiali in questo caso questi batteri sono invece molto abili nella fissazione carbonio dell'idrogeno e vari processi nitrificazione e benificazione quindi al ciclo dell'azoto quasi un turnover metabolico dei complessi organici tenete conto che loro può anche essere legato dei complessi organici e di conseguenza questo turnover può un certo punto trovarsi in situazioni di precipitare quindi già qua vediamo che può essere c'è un aumento dell'oro sulla superficie del grano uno stesso in questa colonna c'è veramente il ciclo dell'oro cioè ci sono dei batteri da questi che riescono a solubilizzare l'oro tendenzialmente non è mai uno ione libero piuttosto è legato a dei completa complessi organici questo che ti ho complessi quindi si lega ad esempio carbonio piuttosto che allo zolfo quello che è importante è che per accrescere il nostro granulo dimensioni ci deve essere oro diffuso nei fluidi quindi probabilmente in questi terreni che sono ricchi di pepite l'assenza di oro fine è proprio legata a questo c'è loro fine il proprio diffuso tende a essere risolto nei fluidi ambientali di conseguenza i pochi granuli in cui ci sono queste colonie tendono a crescersi di dimensioni a spesa appunto di tutte le paiozze circostanti di dimensioni minori di conseguenza avremo col passare del tempo un terreno povero individui ma questi individui composto da oro sono di maggiori dimensioni e spiegherebbe molto bene proprio perché nei terreni specialmente alcuni australiani sono solo pepite e non c'è più oro fine risultati quelli sono sono che tendenzialmente avremo come in questo caso sì dell'oro fine ma soprattutto vedremo anche che c'è un oro grossolano particolare specialmente povero di quarzo se non praticamente un quarzo assente capite che dall'avere un terreno ricco in oro fine senza praticamente intervento batterico a un terreno che prende solo composto da pepite d'oro senza più oro fine ci sono anche dei casi intermedi tendenzialmente sono maggior parte dei casi come in questo esempio e soprattutto presenteranno le depressioni degli osti di idrosti di manganese i quali sono stati provati essere molto importanti per accelerare il processo questa enorme tabella che solamente per farvi capire la complessità di questo argomento in cui semplicemente gli batteri che i funghi lieviti entrano non solo nel ciclo dell'oro a livello dei sedimenti quindi proprio nel loro già disperso bensì potrebbero anche essere importanti nelle minorizzazioni e quindi conseguenza io vi stimolo a leggere questa tabella non sto qua troppo perché comunque molto ricca però sapete che questo riassume tutto quello che finora detto quello che vediamo relativo al loro secondario cioè le pagliuzze piuttosto che granuli che sono disperse in sedimenti come esempio una piena pagana può essere anche il condotto alla formazione delle vene come il nostro caso le vene alpine con i giacimenti primari perché sono scoperto che questi organismi alcuni di essi possono resistere a temperature molto alte soprattutto intorno anche già i 300 400 gravi centigradi e anche a pressioni importanti e di conseguenza ci sono molte mineralizzazioni che sono formate proprio quelle temperature secondo gli esperimenti condotti in laboratorio quindi arriviamo a parlare di modello biotico modello biotico ora finora io quello che ho voluto andare a spiegare è il modello biotico c'è il modello secondo il quale le colonie batteriche soprattutto nella forma di biofilm sono determinanti per la formazione delle pepite piuttosto che semplicemente per il ciclo biogenico dell'oro invece il modello abiotico e quei modelli in cui è la vegetazione protagonista e con la capillarità con le situazioni delle radici e altri ovviamente fenomeni per mettere un arricchimento localizzato in oro e si può anche essere modello biotico in questo caso è quello che io il modello biotico h e cioè high energy con l e low energy quindi a base energia alta energia il modello biotico high energy è quello che semplicemente discuto palesemente in tutte le mie video lezioni cioè quello in cui semplicemente sono gli agenti esogeni protagonisti cioè semplicemente i corsi d'acqua le piogge piuttosto che il vento e ghiacciai sono quelli che vanno a concentrare lungo esempio i fiumi d'oro ovviamente tutto questo prende il nome di arricchimento supergenico perché avviene dopo l'evento metallogenico secondo il modello biotico appunto dell'altra energia quella che ho appena detto la formazione delle pepite è dovuta semplicemente all'aggregazione delle varie pagliuzze le quali tendenzialmente nel tempo vengono a contatto tra i loro nei sedimenti grazie alle piene e via via si saldano vicenda per stress per urti quello che vedremo è che nel processo biotico l'oro argento e rame cioè gli elementi chimici presenti in lega potrebbero essere selettivamente li sciviati cioè estratti con un arricchimento localizzato invece in questo caso in cui semplicemente c'è l'assenza dei biofilm perché potrebbe anche essere un ambiente in cui i biofilm non riescono a riprodursi comunque l'argento e rame potrebbe essere potrebbero essere rimossi semplicemente per contatto con l'ambiente esterno perché sono più alterabili come elementi chimici di conseguenza avremo un livello esterno passivamente arricchito in oro invece in una sommatoria dei due eventi avremmo sia questo caso vedete con un arricchimento passivo dei livelli esterni in oro sia l'altro caso con le depressioni che vengono via via colmate grazie all'attività di biofilm da oro ma loro che viene utilizzato per riempire queste depressioni e ossesso oro che in questo caso potrebbe essere riceviato parzialmente dai batteri creando un ciclo l'oro a cui viene riceviato da nei fluidi viene utilizzato qui per essere precipitato e di conseguenza se non ci fosse quest'oro che viene riceviato non ci sarebbe neanche quest'oro che verrebbe precipitato con il tempo questo granulo questa paluzza diminuirebbe fino a scomparire nel tempo questo grano questa paluzza si incantirebbe fino ad entrare una pepita con il tempo il granulo paluzza avrà solamente al nucleo conservata la composizione chimica originale reattiva magari aggecimento i modelli biotici cioè quelli sulla base dell'attività dei batteri funzionano meglio in ambienti tropicali subtropicali o comunque temperati invece nel modello biotico c'è quello semplicemente che l'epipidio si formano grazie all'azione delle piene nei fiumi è difficoltoso invece il calcolo delle probabilità perché pensare che le paluzze diventa mandano a contatto le une alle altre e proprio in quel momento ci sia l'urto favorevole che saldi e vicenda e poi queste rimangono si conservino nel tempo è comunque abbastanza difficile da ragionare però questo è il caso invece di place al costieri dove l'attività delle onde continua a mettere in moto continuamente i granuli e le paluzze e di conseguenza è più probabile che vengono in contatto nelle altre l'affioramento di bene orifere permette nel tempo di produrre un terreno sovrastante che viene chiamato suolo e soprattutto il suolo viene suddiviso in diversi orizzonti bisogna sapere che dall'affioramento nella lezione orifera c'è una dispersione dell'ambiente di oro per esempio la stessa pianta potrebbe nella sua richiesta di fluidi potrebbe andare ad arricchirsi la sua chioma piuttosto che il suo fusto che sono radici in nano particelle d'oro questo avrebbe solamente se ci fosse l'oro a livello ambientale e di conseguenza dispersione in fluidi ecco proprio l'intervento batterico potrebbe fare tramite in questo fenomeno la presenza di sostanze organiche rende molto suscettibile all'oro in una fase solide di nuovo di passare in soluzione e di conseguenza di infiltrarsi all'interno del suolo e di conseguenza in questo caso vede che c'è una sorta di ciclo la presenza localizzata di comunità batteriche e l'arrivo in queste località di oro in soluzione ne permetterebbe l'accrescimento di pepite localizzate in questo caso nelle porzioni rosse nelle porzioni gialle invece mi sono delle comunità batteriche che non riescono a sopportare la presenza di oro in quanto vedono come un composto tossico lo mettono in soluzione altre colonie batteriche invece non sopportano la presenza di oro l'ambientale e di conseguenza lo precipitano entrambi i casi cosa avremo nelle porzioni gialle una assenza generale di oro nelle porzioni rosse un arricchimento supergenico importante di oro e risalendo versante quest'albero ha delle tracce ma sul punto quest'albero non ha più tracce e da nessuno nessun albero più tracce vorrebbe dire che la migliettazione e circa in questa posizione ora principalmente la prospezione fluviale è importante per ritrovare giacimenti importanti di oro a monte in questo caso la condotta partendo la valle verso monte le varie stazioni campionamento tendenzialmente possa subito dopo le curve oppure alla confluenza degli affluenti hanno fuori due risultati i quali tematicamente secondo il cerchio tanto che si aumenta tanto che aumenta anche cambia il colore da la quantità di oro ritrovato una modalità di analisi dei sedimenti pesanti convenzionale che non va a utilizzare la presenza dei batteri come sorta di marcatori del terreno per la presenza di mineralizzazione invece in altri casi è possibile andare a campionare il suolo del versante soprattutto nel caso precedente in cui siamo pressi massiccio si denota un suolo con un colore particolare si va a campionare si analizza in laboratorio si fa la giochimica dei suoli e si va quindi a vedere l'anomalia nei pressi appunto dal fioramento del giacimento minerale non si utilizzano i batteri ma già stiamo ravvicinati perché da un momento in cui noi andiamo analizzare il contenuto chimico di questo suolo è facilmente anche ipotizzabile analisi delle colonie batteriche potremmo andare analizzare le acque possiamo andare analizzare le docce fioranti possiamo andare analizzare della chioma della gelazione possiamo andare analizzare l'erba stessa possiamo analizzare tutti i vari orizzonti del suolo possiamo fare ad esempio un cartaggio andare a vedere in profondità cosa c'è possiamo fare un sacco di mali ma soprattutto possiamo fare più sensing e si va a riconoscere nel terreno al suo considerato quali batteri vi sono e di conseguenza si fa per analogia e si dice a ok il laboratorio io ho trovato in questo composto questa associazione batterica sul suolo tra questa società in batterica a ok quindi vuol dire che c'è ora nel terreno e di conseguenza sua base di quanto i batteri quando sviluppata eccetera si può capire anche la quantità di oro nel terreno l'oro è presente questa filte voglio rimuovere la pirite e costoso il trattamento chimico di questo minerale bene utilizzo un'associazione batterica che vada a muovere la pirite non l'oro e di conseguenza nel tempo vedete i nostri batteri andranno a rimuovere la pirite e rimarrà l'oro e in questo caso si potrebbe fare già un processo a catena in cui tolgo la pirite grazie al più acidos ferroxidans in un digestore poi prendo quello che rimane e tolgo l'oro col diafobacter quello che rimane lo metto da parte il fluido che contiene solo più l'oro metto il c metallidurans in un altro digestore e questo farà solo più precipitare l'oro arrivano quindi ai conclusioni dal punto di essere di queste ricerche e secondo me anche dal mio da quello che posso e ho avuto desumere le influenze i microrganismi i quali non sono solo batteri ma sono anche arche a funghi e leviti sono aumento di dimensione dell'oro e trovabile in ambienti superficiali come possono essere ad esempio i placer e talvolta profondi potrebbe essere maggiore di quanto finora ipotizzato e sua base di molti fattori quali per esempio il clima in quale stesso nell'arco del tempo tende a cambiare è possibile che alcune modalità prevalgano temporalmente su altre quindi nel momento in cui esempio in piemonte ci fosse stato un clima preferenzialmente tropicale i modelli biotici cioè quelli legati alla formazione dei batteri delle pipite potrebbero aver prevalso ma soprattutto importante notare quanto questi organismi siano veloci a prosperare rispetto al tempo geologico e quindi quello che noi vediamo semplicemente come un microrganismo piccolo praticamente con attività infima in realtà osservato sulla scala di milioni di anni decine di milioni di anni sempre comunque in maniera ritmica si può dire perché rispetto al clima presente rispetto località presente però potrebbe avere avuto possibilità veramente di formare delle pipite di grandi dimensioni questo è tanto più evidente tanto più il continente tende a essere vecchio come esempio australia io vi consiglio di andare a spulciare biografia vi lascio questa barzelletta se così si può chiamare riguardo i batteri nel caso in cui questo video vi fosse piaciuto potrei andare a fare anche altre videoconferenze in alt su altri argomenti su vostra richiesta potete scrivere nei commenti nel caso in cui il video vi fosse piaciuto mettete un bel pollice in su e soprattutto iscrivetevi al canale per avere ulteriori aggiornamenti sui futuri video questi argomenti che ho appena parlato sono riassunti e sviluppati anche sul manuale dell'oro il mio libro io sono matteo berto e vi saluto e vi auguro una buona giornata